Si parla di scuola, si parla di turismo in generale, di alberghiero nel vostro caso, ci si chiede sempre se in Liguria riusciamo a stare all'altezza delle sfide del mercato. Oggi con questo progetto presentato qui gli ALIT la risposta sembrerebbe positiva. Certamente la nostra vocazione è quella di fornire delle competenze e degli sbocchi professionali ancorati al territorio, alle possibilità produttive e alle possibilità offerte dal territorio, sia in campo di accoglienza turistica, e Genova ne ha bisogno, in territorio Ligure sono un elemento importante, sia ristorativo, sia di sala, bar e quant'altro. Oggi abbiamo un robot e il basilico, quanto uno può trainare l'altro? Assolutamente, due eccellenze. Il basilico, un prodotto d'eccellenza da valorizzare nel nostro territorio, noi tra l'altro partecipiamo a un progetto europeo, bambini e prodotti di eccellenza, è uno dei prodotti che noi valorizziamo, è appunto il basilico, e il robottino Icub dell'Istituto della Tecnologia è un'eccellenza in campo delle tecnologie nel territorio genovese, direi che è un connubio assolutamente interessante.